Al palatagliate si respira l'aria della grande sfida. Arriva Schio, l'avversario di sempre, l'avversario battuto contro ogni pronostico nella finale scudetto. Oltre 1100 persone al palazzetto per sostenere una squadra bianco-rossa che dopo qualche indecisione nelle prime sfide ha mostrato grinta e potenzialità da prima della classe. Coach Barbiero recupera la Ududenco che non parte nel quintetto base ma che dalla panchina può essere l'arma in più. Prima dell'inizio della partita un minuto di silenzio per ricordare l'arbitro internazionale Gianluca Mattioli scomparso improvvisamente nei giorni scorsi. Quindi si parte e Schio mostra subito una marcia in più. I primi minuti sono un vero disastro in casa Gesam, la precisione al tiro assolutamente insufficiente e sotto le plance sono le ospiti a dominare grazie ad una trascinante Jakobu che alla fine con 21 punti risulterà la migliore realizzatrice della partita. Alla fine del primo quarto, sotto 23-6, Coach Barbiero prova a strigliare le sue e a cambiare qualcosa ma l'inerzia della gara è questa. Lucca mai capace di sfondare in avanti con efficacia, Schio implacabile davanti e dietro. Il divario si allarga fino al più 25 di fine tempo. Il copione del secondo non cambia, Lucca è troppo timida sui due lati del campo per impensierire un Famila in ottima serata che tocca anche il più 31. Nell'ultimo quarto la Gesam ci mette l'orgoglio e fa in modo che il distacco diventi meno pesante. Vince Schio meritatamente 76-52 il finale. A fine partita l'analisi limpida dei Coach Barbiero. Non siamo scesi in campo, stasera non posso salvare niente. Adesso servirà a archiviare in fretta questo stop e pensare già alla prossima sfida, molto difficile, di nuovo al Palatagliate per riscattarsi subito di fronte al proprio pubblico contro San Martino, una delle sorprese del campionato.